un poca felice avrò sfondato le orecchie di qualcuno perché vabbè così che si fa allora siamo tornati questi diversi non è vero diversi di quali è una vita che non lo facevamo abbiamo detto ma perché perché no facciamolo dai tanto tanto ci dobbiamo ammazzare prima o poi quindi perché non tanto tutti moriamo prima o poi quindi perché non fa che è una sfida e dobbiamo portarla a termine l'avevamo lasciato a me dopo tanto dopo tanta fatica che l'abbiamo portata avanti tante fatiche fatte fino adesso tratto io non ricordavo di essere arrivato in questo punto veramente io ricordo se non ricordavo perché sta parte è stata la peggiore ci abbiamo messo tutto qui tutte queste cose siamo qui a scegliere esatto questo è un troll non lo so io direi di andare in detto prego signore prego prima i signori figli non so se è un trucchetto cioè potrebbe pregare anche perché praticamente vai sopra alle piastrelle non è che vai non vado proprio nella mano boh forse devi avanzare mi sa no non credo ah no mi riporta 3 3 e albero a no però io riprovo è albero no si è venuto a fare così sale e sono tipo salesman è il tizio che vende o tipo venditore cose del genere live no life 3 salesman è una sorta di indovinello è un indovinello è quello di che vende allora no stai morendo stai morendo lascia che che prenda fuoco il fuoco mi divorerà ma muori finché ma così muori finché ma guarda come ci metto ok ok andiamo qui oh ebbè siamo tornati indietro no e allora niente bisognerà forse live andiamo in morte ci vado io vai buttati che morbido dove dove siamo dove siamo ok non era niente stai ancora buttando buttiamoci nell'acqua albero 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 non c'è niente proprio se ti fermi no aspetta qualcosa che è successo ah siamo andati per forza qui di nuovo tipo venditore cazzo venditore vendito ah no no vai nera morte vai tranquilla vacci pure cosa hai fatto orsman si orsman orsman sarebbe quello il cavallo e no è quello che c'è le scuderie uomo cavallo uomo cavallo l'uomo cavallo lo uccidiamo perché perché si no aspetta un po' è si lo so line line no che hai fatto line 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 linea la linea line 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 la ragazzi me la line la linea la uccidiamo o la lasciamo via non lo so ragazzi non lo sappiamo live live la linea Life Metal Metallo Metallo Col fuoco diventa Diventa Tipo Metallo Vediamo Che dice Lo scopriamo morendo Spice Spice Le spezie No Le spezie Aspetta come si dice No spicy Sì spice Ma le sto mancando tutta Cioè Prima dico spazio Poi Boh io vabbè No Spazio Spazio Questa spice Le spice No Quelle spazio Ma che le spice Gordo Vabbè andiamo in life Allora Credo sia in life Life Siamo After Dopo 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 vita Dopo la morte Dopo la morte Non lo so Non chiedetemi Siamo andato Molto Finchè non capiamo Cosa Siamo tornati all'inizio E niente Abbiamo sbagliato No Mi sono ritrovata E morte Il sal e smile muore Il sal e smile muore Il sal e smile muore Il cavallo mi pare che morisse Lo stallire muore Credo Ma molto interessante il gioco così Chi deve morire e chi deve morire La linea e la vita La linea e la vita La linea e la vita Il metallo e il fuoco Il metallo e la vita Lascia stare Lascia perdere Che ci riporta all'inizio Da qualche sotto No Non era Spice Che ci riporta all'inizio Ah va bene Ok allora Andiamoci Per capire qual è La sequenza Non riesco a capirla Almeno io Riprovo in vita Ma Che fatto? Sono andate Ma forse prima Ah no Era after Era after il problema Allora tagliamo tutto questo pezzo Allora è vita È vita No after vita L'abbiamo provato After death No No Spicy life No Aspetta After death No siamo andati After death No siamo andati dopo la morte Sei sicuro? Sì E vai Ok Protetto Circo Life Circo Il cerchio della vita Circo della vita Va bene Avevi ragione Ok Blue screen Blue screen death Of the death Morte Ok abbiamo capito Morte del computer Oh ce l'abbiamo fatta Finalmente Transport Vedi che aveva ragione Che si poteva fare In qualche modo Avevamo provato live Continuation No perché live È vero Ce l'ha Andiamo qua Allora Continuation Eh vai Grazie Vai vai Ok Riesci Ok perfetto Question Ford Determinated Determinated Determined Ford Determined Siamo molto determinati Tranquilli Allora Che ci sta 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Question Chi sono io Room combination Nero Viola Bianco Indaco Giallo Who am I Allora Allora Se vogliamo vedere i colori In inglese sono Black Purple White Purtroppo Non so veramente negato Non so veramente dove In inglese sono Indaco O blue Yellow Però dubito che abbia qualcosa a che fare B P V I Y Non è una parola Room 1 La combinazione della stanza 1 La combinazione della stanza 1 Ma io posso tornare lì e poi ritornare qua Tu stai fermo qua Sì Però veramente io ancora non ho capito la sequenza di sta cosa La combinazione Dove sei andato? Resta là dentro tu Resta là dentro che mi devo dire Ma te Sì perché mi devo ti pare da te Ma che arrivo Aspetta Va bene Va bene Va bene Va bene Lesta lì Room 1 Ma perché porta a cura te? Eh non lo so perché porto pure a me Allora Nero Nero Viola Bianco Azzurro E giallo Nero Viola Bianco Azzurro E giallo Nero Viola Bianco Azzurro E ma che cosa fanno? Cioè perché Qua non c'è nemmeno il giallo quindi non si può fare Chi sono tutti questi? Ah fammi provare Allora Stahl Stahl Aspetta che me lo segno un attimo Va bene Vi fanno un attimo Stahl Perché forse c'è qualcosa a che fare con questi Stahl Credo proprio di sì Nero Mi dici gli altri colori? Mi pare viola adesso Viola Sì Viola Il viola Quale può essere? È questo il viola Stahl Moll Poi? Ci si ricorda? Aspetta Ma ti devo dire quelli che ci sono qua? No mi devi dire quelli che stanno nella chat Stahl Allora Nero Viola Allora aspetta un attimino Nero Viola Bianco Strad Strad Poi? Indaco Indaco Questo qua suppongo Wait È giallo Giusto? È giusto Sì Il problema è che qual è il giallo di tutti questi? Qua 13 Suppongo sia questo però non mi sono sicura Ma questi sono tutti cd? Non ce ne sono altri, vero? Andiamo a vedere Ma è lunghissima sta cosa Allora Io ho preso le uniche informazioni che potevo prendere Ma più di questo non ne ho la minima idea Siamo deboli Vediamoli all'inizio Sì Siccome tu non puoi ricordare la combinazione Order combination Ma io poi sono andata lì a vedere Scusatemi Order combination Order combination corno Io non mi ricordo proprio niente Cioè non mi ricordo la combinazione Ma poi vedo che davanti abbiamo altre fila di cose Order combination Che palle order combination corno La combinazione scusami Me la ricordo a memoria È questa la combinazione Esattamente come te l'hanno messa Uno, due, tre, quattro e cinque Ma è strano Uno, due, tre, quattro e cinque Abbassiamo tutti il resto Uno, due, tre, quattro e cinque Facciamo uno, due, tre, quattro e cinque Tutto il resto fa schifo Via, 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 via No Perfetto Vediamo Chi se ne frega Dai no Se era veramente questa la combinazione Mi arrabbi Cioè uno, due, tre, quattro e cinque Seriamente? L'abbiamo risolto Andiamo Non farti domande Ma non ha senso Non è logico Non mi frega un cavolo Guardiamo sta cosa Aspetta Vediamo una domanda No 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 Uno di noi si alza Mentre l'altro si nasconde Si Disguise Cambia Muta Si nasconde mutando Non mi ricordo il termine italiano Si nasconde mutando? Chi è che? Allora un altro si alza Chi è che si nasconde con le mutande? Uno si alza mentre l'altro si Come fanno i Aspetta ripetimi la domanda I camaleonti Come fanno i camaleonti? Si Mimetizzano Esatto Mimetizzano Uno di noi si alza Mentre l'altro si mimetizza Uno di noi si alza Mentre l'altro si mimetizza Il Che cos'è che si alza? Il pesce Penso Il pesce si mimetizza? A cosa si mimetizza? Con l'acqua Le canne da bambù Le canne da bambù si alzano Aspetta ma non dobbiamo abbassare tutto Alzare solo questo Tecnicamente A quanto ho capito Allora Le canne da bambù si alzano Perché vanno fine sopra l'altro Si mimetizza No 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 ma le erano tutte alzate Erano tutte alzate Quindi io ho abbassato queste qua per renderle Non lo so Allora tutto al contrario Che cos'è che si può mimetizzare invece? Vediamo cosa si può mimetizzare Questi affari I semi L'altro si mimetizza Sono due risposte allora Secondo me la torta si mimetizza Perché da una cosa Nasce una cosa stranissima Vediamo l'indizio Vediamo l'indizio Una volta ho guardato in un enderman Ma lui non mi ha notato Strano Must have been the yeast And was baking with Yeast Due secondi Yeast Che cos'è Yeast? Ma lui non mi ha notato Yeast Il lievito che stavo Impastando La torta Eh ma la torta Con cosa fai la torta? Con cosa si fa la torta? Con la zucca? Zucca Allora zucca Zucchero Il latte Dov'è il latte? Non ci sta il latte però Però se fosse la torta Ci sarebbe stato il Il grano? No aspetta un momento Di sicuro c'è lo zucchero Nella torta Ma perché siamo soffermati sulla torta? Non lo so Ma non potrebbe essere la torta Cioè potrebbe essere qualcos'altro eh Noi ci siamo soffermati sulla torta Ma sai Senti io possiamo fare come quell'altro Mettiamo tutto giù E vediamo cosa esce per il Ne stiamo superando uno in modo logico Per favore Adesso voglio capire scusatemi eh Cosa ho abbassato Io l'avevo detto Di tirare il suo a caso E il pane? Che cosa c'entra la zucca e il pane? No aveva detto Non mi ha notato La zucca È mimetizzata Mentre il pane si alza Eh ha detto che l'ha guardato ma lui non l'ha notato E il pane si alza Sì ma non pensavo fossero tecnicamente due elementi diversi Eh sì aveva ragione Perché cos'è che si mimetizza la zucca? Perché ha guardato l'enderman Disguides Perché io Tu ti mimetizzi con la zucca Io penso che era una cosa che si mimetizza la cosa No tu ti mimetizzi Su minecraft Su minecraft Tu ti mimetizzi grazie alla zucca Non i mostri non ti attaccano da qualcuno Eh Ma quante ce ne sono ancora Basta basta ragazzi Ci fermiamo un attimo qua Perché veramente No ragazzi su serio basta No Fermiamoci qua Continuiamo Non ce la facciamo proprio Continuiamo al prossimo episodio La nostra determinazione è instabile veramente La nostra determinazione è un attimo fermata Noi Torniamo a saltellare Nei 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 preti albini Ok Ok Saluta 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 Ciao No Mi puoi picchiare No maledizione Dai però Dai fatti fatti picchiare un attimo Come faccio? Non ne ha attivato il pvp Non ne ha attivato il pvp Se no non si conclude Ma ma non è attivato il pvp Mi spiace Ok Ma è un po' come sans Il combattimento durerà in eterno Esatto in eterno A guardarci negli occhi Guardateci quanto sono carini Lui che balla Ci sto anche ballando a ritmo Chiudiamo dai Ok Ok Chiudiamo dai Nääää gray a a a a a